Il tempo non era buono mai. Si, non era buono, non era bello. Io sono più o meno a 15 gradi. Ah si? Arriva uno. Arriva uno. Arriva uno. Arriva. 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 Ora stiamo facendo un piccolo giro per la Venecia e ora per il canale piccolo, che è il canale della Gondola Il Luì è un veneciano Ciao, ciao, ciao Ciao Questa è la famosa abitazione, è l'abitazione di Casanova Ma non si può andare? No, in privato, in privato Un po' pericoloso In che senso? Difficile? Difficile Ora passiamo a direccia Questo ponte si chiama Ponte delle Tette Il canale delle Tette Sarebbe la donna prosperosa Perché qui stava la putta Il puttane Si Stavano qua le persone Venivano qua Sabevano che quattro erano le tette Il fuorico si non sono le tette Rialmente sia il puente della putta Si, il potta della putta Il fondamentale delle Tette Grazie. E lei conosce Perù? Sì. Sì. E c'è bambini? Bambini? Sì. Connoce una italiana? Separata. Ha molti anni. Bambina, ragazza, ha 17-18 anni. Oh, è grande. Una ragazza, non è una bambina ora. Sì. 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 Fine del primo tempo. Sì. 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 Sì.